La Santa Croce La Santa Croce, proprietaria del marchio, ha il diritto di imbottigliare acqua da altri stabilimenti e di venderla con la stessa etichetta, evidenziando nella bottiglia la provvedienza e le caratteristiche. Non c'è nessuna violazione di legge, non capiamo come si possa gridare allo scandalo, soprattutto da parte di chi, in testa della regione Abruzzo, comuni di Calisto, rappresentanti dei lavoratori, non ha mai risposto alle nostre istanze, negando ogni proroga, in sostanza determinando lo stop nella produzione. È la ferma risposta del padrone della Santa Croce SPA, Camillo Colella, alle accuse legate al fatto che sugli scaffali di alcuni supermercati abruzzesi ci siano bottiglie con il marchio Santa Croce contenenti acqua della sorgente molisana del comune di Castelpizzuto, in provincia di Isernia. Ci sono marche a livello nazionale ben più importanti di noi che fanno la stessa cosa, avendo più concessioni in diversi siti produttivi in varie regioni italiane, spiega Colella. Oggi, leggendo i giornali, sembra una sorpresa. Nel caso dell'acqua molisana, poi, le caratteristiche organolettiche sono molto simili in quasi tutti gli indicatori. Abbiamo dovuto accelerare questa soluzione dopo che da 10 giorni lavoratori e sindacati in mobilitazione impediscono a noi e a tanti altri lavoratori dell'indotto con un esercizio illegale del diritto di sciopero di entrare nello stabilimento di mia proprietà e di poter usufruire delle importanti scorte di magazzino e di serbatoio, continua Colella. Ho rilevato quest'azienda evitando un fallimento sicuro. L'ho risanata e rilanciata. Che cosa voleva la regione comune di Calistro? Che lasciassi campo aperto al nuovo gestore che loro hanno individuato? Si chiede l'imprenditore. La Santa Croce, che ha attivato un contenzioso contro la regione, ha avviato le procedure di mobilità nei confronti dei 75 dipendenti. Non avendo noi altra scelta, visti i continui dirieghi, alle quattro istanze di proroghe alle quali si è risposto con il sequestro della Saracinesca. Il patrone annuncia che domani chiederà ancora una volta a istituzione e forze dell'ordine di poter entrare nel suo stabilimento. La regione e il comune di Calistro hanno risposto alla mia iniziativa annunciando a loro volta un esposto per denunciare che l'acqua nello stabilimento è stata imbottigliata senza autorizzazione e per chiedere il sequestro. A parte la riflessione che regione e comune sono convinti di aver ragione prima dei processi, sostituellosi a giudici e magistrati, tuona Colella, comunque sono favorevole a un serio intervento della magistratura che rispettiamo come istituzione e come decisioni. Così potranno emergere le tante ingiustizie che ha subito e subisce ancora la Santa Croce. A sette anni e mezzo dal terremoto partono finalmente i lavori di consolidamento e restauro di Palazzo Margherita, storica sede del Consiglio Comunale e degli uffici del Sindaco. Già dopo alcuni mesi del post terremoto 6 milioni e mezzo furono messi a disposizione dalla BCC di Roma, un milione e mezzo, e dal sistema delle BCC italiane e a lungo è sembrato che il cantiere, uno dei più attesi del centro storico, potesse partire. Il credito governo italiano ha stanziato a suo tempo, sapete, i 5 milioni che sono oggi a disposizione per la ricostruzione di questo palazzo che è il cuore pulsante di questa città, quindi speriamo presto di vederlo ritornare ai vecchi fasti, diciamo, del passato. I lavori dei sottoservizi, ma ancora più la burocrazia italiana, hanno rallentato, secondo il Sindaco Cialente, l'avvio del cantiere, il cui costo complessivo è di circa 7 milioni di euro, con fondi erogati nel 2010 anche dal decreto dell'allora commissario delegato alla ricostruzione. Il sistema paese è un sistema drammatico, il sistema paese, credo per qualsiasi opera pubblica, non so se succederà adesso rispetto al nuovo codice degli appalti, ma io credo che non si possa andare più avanti così. Servirebbe alcune norme, esempio la prima, non so, il ricorso al tarre fatto incautamente per la sede, tanto ci provo, di pagare dei danni, comunque andare, perché così non possiamo andare avanti. Pensate alla biblioteca, solo adesso è stata la biblioteca qui, ai quattro cantoni, il vecchio invito nazionale, solo adesso si è riuscita a dare incarico di progettazione. Se ci rendiamo conto, questo è un problema che io pongo a livello italiano. Pensate un attimo se l'Aguila fosse passata, il ragionamento di farlo attraverso grandi appalti pubblici, oggi noi staremmo probabilmente, non staremmo sicuramente qua, io non so dove stare ad abitare, né tantomeno so dire dove stareste ad abitare voi. Si sta completando la demolizione del cosiddetto palazzo del benzinaio dell'Aquila alla villa comunale, dopo l'ordinanza del sindaco Massimo Cialente, che ha anticipato i tempi di abbattimento dopo le recenti scosse di terremoto. La gru ha già strappato pezzo per pezzo i piani più alti del palazzo. Il logo Agip, che costeggiava il palazzo, invece, sarà restituito a Leni, il colosso petrolifero nazionale. Forse sarà esposto in un museo. La demolizione viene seguita sempre da un buon numero di curiosi e dovrebbe terminare nella giornata di domani, ma il condizionale resta d'obbligo. La chiusura di parte di via 20 Settembre, una delle arterie più importanti della città, ha provocato e sta provocando diversi disagi alla circolazione, già molto congestionata nel dopo terremoto. L'edificio, così chiamato perché fino al sapile 2009 ospitava un distributore al piano terra, era rimasto fortemente danneggiato dal sisma di sette anni fa e le scosse ultime del centro Italia ne avevano aggravato la situazione. A quel punto il sindaco Massimo Cialente, in polemica per quelle che ha definito lungaggini burocratiche della provincia, ha disposto poi, come è noto, l'abbattimento per motivi di sicurezza. L'inizio dei lavori era slittato già di 48 ore per portare a termine le indispensabili bonifiche dei vecchi serbatoi di carburante e delle parti in Ethernet contenente amianto dell'edificio. Nell'area è previsto un ampio piano di ricostruzione. Nascerà un edificio in pietra che proseguirà i portici di Corto Federico con negozi al posto della pompa di benzina. Quinta vittoria consecutiva per il Rosso Blu che mantengono la seconda posizione in classifica con Ostia Mare. Il primo tempo vede l'Aquila intraprendente ma ben controllata dal Sansepolcro, con difficoltà a liberarsi sotto porta. Al sedicesimo arriva la prima emozione su calcio d'angolo con una spettacolare girata di Sembroni alta sopra la traversa. L'Aquila, sebbene sia padrona del gioco, non riesce a concretizzare. Al ventinovesimo, infatti, è Minincleri che sorprende alla difesa toscana arrivando sul fondo palla al piede, ma non riesce a smarcarsi e la sfera è fuori. Nel secondo tempo si organizza meglio l'Aquila e, sebbene arrivi un brivido al nono con il Sansepolcro che sfiora il gol, sul ribaltamento di fronte, un minuto dopo, Zane colpisce un clamoroso palo solo davanti al portiere. La svolta dell'incontro arriva al diciassettesimo con il rigore fischiato a favore dei padroni di casa per atterramento di russo. Mister Schenardi protesta e il direttore di gara lo manda prima del tempo negli spogliatoi e Minincleri a siglare la rete del vantaggio. Al ventesimo il giovane Farroni salva la partita con una parata di piede su un gran tiro di Gorino. Il pericolo passa alla sveglia rosso-blu. L'Aquila aumenta la concentrazione contro un Sansepolcro più proiettato in avanti. Al trentasettesimo arriva la seconda rete su un contropiede condotto in solitaria da Russo che infilza all'estremo del Sansepolcro rasoterra. Al quarantesimo la partita si riapre con un rigore assegnato agli ospiti per il tentato atterramento di Malcani da parte di Pepe. La rete della bandiera del Sansepolcro è di Mortaro. Cinque minuti di recupero. Sul 2-1 i padroni di casa ancora soffrono, ma al quarantaseiesimo la partita si chiude con un'intuizione di Russo che si infiltra nella retroguardia ospite che riorganizza il gioco. Intercetta il pallone e mette in rete il gol del 3-1. Arriva la prima sconfitta della stagione per l'Aquila Rugby Club. A Roma l'Unione Rugby Capitolina si impone 18-13 dopo una partita viziata dalla pioggia battente e dal campo pesante che ha visto i padroni di casa giustamente uscire vittoriosi. La gara inizia con ritmi molto alti e la Capitolina si porta subito in vantaggio con il centro Alessandro Giacolucci che si porta avanti la palla con i piedi e schiaccia in meta. Colitti trasforma e tre minuti più tardi allunga con un piazzato per il 10-0. L'Aquila reagisce e si porta in avanti ma non riesce a concretizzare le numerose azioni in attacco e Filippo Di Marco sblocca il tabellino fallendo un calcio piazzato. Il terreno pesante, il vento e la pioggia non aiutano nel gioco alla mano mentre la Capitolina si difende bene e si va negli spogliatoi sul 10-0. La ripresa inizia con l'Aquila che si porta decisamente in attacco nel tentativo di colmare il gap. La Capitolina invece continua ad imporsi soprattutto con il pacca ma i neroverdi si sbloccano dopo 5 minuti. Bella la penetrazione di Barcello Angelini che dopo una finta schiaccia in mezzo ai pali. Di Marco trasforma per il 10-7. C'è tempo al 54esimo per un altro calcio di Colitti e per la risposta dell'apertura neroverdi di Marco che porta l'Aquila sul 13-10. Il 15 neroverdi non sfrutta la superiorità numerica. Due giarli per la Capitolina al 49esimo e al 62esimo ed anzi i padroni di casa allungano a 10 minuti dalla fine. Ancora la Colucci, man of the match, corre per mezzo campo saltando diversi giocatori e schiacciando in meta. È il momento cruciale della partita con i padroni di casa che vanno sopra il break 18-10. C'è tempo per l'ultimo assalto neroverde e un piazzato allo scadere che permette all'Aquila di conquistare il bonus difensivo. Bene invece la Gran Sasso Regmi che si impone 3-16 sul primavera Regmi scalando diverse posizioni in classifica. Grazie a tutti!